Siamo con il video, eh? Siamo facendo il video! Questa notte è come il Super Evo, presenta a lontano e a lontano e passate, passate, passate a tutti i amici da questo potuto momento insieme a noi siamo venuti e passate, passate, passate a tutti i amici e passate, 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 passate ... ... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!